L'archivio dell'ispettore Di Falco di Fabio Fabiano. Legge Alberto Caneva. Lupupu tuziutanu. A Di Falco quelle parole aprirono uno spiraglio di luce, ma ebbe come la sensazione che ancora erano più i dubbi che le certezze in quella storia. Riunì la squadra e disse la sua. La prima cosa che mi viene in mente in merito alla lettera anonima è che qualcuna possa averla scritta solo per danneggiare questa passalacqua. Romano intervenne. Magari avrà soffiato il marito o il fidanzato all'anonima autrice della lettera e questa si è vendicata calunniandola. Secondo me, disse Ombra, l'anonima è preoccupata che il marito invece di portare i soldi a casa li porti a Pipina la Tunisina. Del resto, se a letto è più brava, se li merita. O può darsi che la nostra amica tiene un piccolo bordello in casa sua e lì ci siano altre ragazze a spillare soldi ai Don Giovanni di Faro. Di Falco si alzò dalla scrivania in cui era seduto e decretò. E chiediamo un mandato di perquisizione per uno scritto anonimo. Il magistrato, anche se gli raccontassimo che si tratta di una mezza prostituta, non ce lo concederà mai. L'unica cosa che mi viene in mente è che se la passalacqua sentisse puzza di gas e nel frattempo a casa sua bussassero due della compagnia del gas, non esiterà a farli entrare per verificare se ci fossero perdite. Pertanto domani, Ombra e Romano, andate dal mio amico Giovanni Casà e gli chiedete al solito le tute e la macchina dell'azienda del gas. Poi passate da casa di questa Pipina e gli inalate un po' di gas che simula l'odore del metano. Fate passare dieci minuti e vi presentate dietro la porta e le dite che dovete effettuare un controllo. Con questa scusa date un'occhiata alla casa e ci leviamo tutti i dubbi e non disturbiamo nessuno. Ok, buona idea, affermò Romano. Il piano di Di Falco, ormai collaudato da anni, andò a buon fine. Anzi, andò oltre le più rose aspettative. Non si verificava quasi mai che facilmente si risolvessero casi intricati, ma questa volta fu veramente una gradevole eccezione. Appena entrati, i due poliziotti, travestiti da operai della Gassicilia, si imbatterono in una donna dai lunghi capelli neri, con dei tratti arabi, un prosperoso seno messo in evidenza da una camicia scollata e un paio di pantaloni attillati che mostravano un sedere ancora sodo, nonostante l'età. Giuro che vi stavo chiamando appena ho sentito la puzza, ci deve essere una perdita di gas, per fortuna che siete arrivati. I poliziotti, superata la soglia dell'abitazione, non credettero ai loro occhi. Nell'ingresso, in bella evidenza, dentro una nicchia che sembrava ricavata apposta per contenerla, videro la statua dell'Efebo. La circostanza che li fece sorridere è che una statua di così inestimabile valore fosse utilizzata come portacappello per un copricapo a larghe falde, molto probabilmente quello usato il giorno del furto. Dopo l'iniziale cortesia dei due poliziotti, finalizzata a ottenere la fiducia della donna per entrare dentro casa sua, Ombra, alla vista della statua, uscì al naturale. Brutta bagasciona zossa, ma che cazzo ci fai con la statua rubata al museo? Ma come si permette a parlarmi così? Senti, sottospecie de puttanone arabbeggiante, cerca di farti venire un'idea per spiegarci come mai a casa tua abbiamo trovato la statua dell'Efebo perché sei nella merda più totale e stanotte porterai il tuo bel culetto dietro le sbarre del carcere. Sì, ma voi chi siete? Minchiona, ancora non l'hai capito, siamo poliziotti e siamo venuti ad arrestarti. La donna perse il suo naturale colore bruno e sbiancò in viso e tracollò su una poltrona dell'ingresso. Romano si attaccò al telefono, non gli sembrava neanche vero di stare per comunicare a Di Falco che avevano trovato la statua dell'Efebo. «Passo a prendere il direttore del museo per avere la certezza che si tratti di quella autentica e ti raggiungo», rispose raggiante l'ispettore. Raggiunta l'abitazione, il direttore Giacomo Fouca la guardò attentamente e, conoscendola meglio di una parte del suo corpo, statui senza dubbi. «È la statua originale! Complimenti! Siete riusciti a recuperarla!» Di Falco sentì nel cuore una grande soddisfazione. Sorrideva come non lo faceva da mesi. Dava delle pacche sulle spalle a tutti i componenti della squadra. Avrebbe voluto esternare la sua gioia come i giocatori di calcio quando vanno in gol, abbracciando i colleghi. L'abitazione della Passalacqua fu messa sottosopra alla ricerca di altre prove sul traffico di reperti. Furono controllati e messi sotto la lente di ingrandimento tutti i contatti che la donna aveva, alla ricerca di eventuali nominativi di trafficanti, ma la ricerca risultò infruttuosa. Nel frattempo la notizia del ritrovamento cominciò a muovere tutto l'apparato mediatico e il questore, con il commissario Capo Capuozza, ebbero modo di spiegare nei dettagli le fasi del recupero della statua, omettendo chiaramente la storia della lettera anonima e valorizzando l'attività investigativa. Per comprendere meglio il perché di quel furto e del ritrovamento della statua all'interno dell'abitazione della donna, Di Falco accompagnò la donna presso il commissariato. Seduta su una sedia e accerchiata dagli uomini della squadra di polizia giudiziaria, la donna si sentì assediata. A condurre l'interrogatorio fu Di Falco, seduto dietro la sua scrivania, ansioso di comprendere quale era la motivazione. In verità il poliziotto aveva formulato un'ipotesi, ovvero che la statua fosse stata rubata e nascosta in casa in attesa di trovare un acquirente a cui piazzarla. Ma questa ipotesi strideva con la circostanza che se qualcuno ruba una statua del genere la cela meglio e non la espone in una cripta dentro casa. Inoltre la soluzione del caso doveva essere intrinseca nella lettera anonima che a quel punto era veritiera. Nello specifico, nella missiva, vi era scritto che il pupo, che a questo punto non poteva che essere la statua, era di proprietà dello zio Gaetano. Inoltre vi era scritto, come era stato dimostrato, che la statua si trovava a casa di Pipina la Tunisina, ovvero Giuseppina Passalacqua. La prima domanda dell'ispettore fu «Conosce un certo zio Gaetano o qualcuno che si chiama così?». La donna lo guardò con aria di sfida e gli disse Spavalda «Io con gli sbirri non ci parlo, non sono una infame». Di Falco si innervosì vistosamente e non fu l'unico in quella stanza, ma trattandosi di una donna comprese che le maniere dure non avrebbero sistemato la faccenda. Per scaricare la tensione compresse i muscoli della mascella e si scricchiolò le dita delle mani. «Senti, passa l'acqua, o come cazzo ti chiami. Tu per me già sei in cella. Io i verbali di arresto li ho già pronti. Devo solo aggiungere il tuo nome e la tua data di nascita. Ma siccome devo capire per intero cosa c'è dietro questo furto, ti do la possibilità di collaborare, con la promessa di scrivere al magistrato in tuo favore, in modo da farti concedere gli arresti domiciliari e diminuirti la pena». La donna incrociò le braccia e accavallò le gambe e non spiccicò manco una parola. Di Falco percepì il segnale di chiusura e comprese che in quella posizione l'unico vantaggio che aveva era l'incriminazione per ricettazione e la possibilità di tenerla nella cella di sicurezza del commissariato sino alla data della fissazione dell'udienza per la convalida dell'arresto. «Ombra, porta la signora a farle conoscere la cella di sicurezza del commissariato. La troverà un tantino scomoda, ma per qualche notte sono sicuro che troverà il modo di adattarsi». «Alle corna dure, pipina la misina», disse sorridendo Romano. «Bisogna trovare il modo per ammorbidirgliele», replicò pensieroso di Falco.